Buona giornata, ben ritornati anche quest'oggi in nostra compagnia. Argomento scottante, di grande attualità, che coinvolge veramente trasversalmente tutte le età, anche se noi vogliamo puntare in modo particolare, ma non esclusivo, ai giovani. Diciamo che c'è una targhetizzazione, questa sì, ci rivolgiamo al popolo maschile, lo capite anche bene dal titolo, anche se le donne sono un veicolo importantissimo di raccomandazione e informazione. Sono quelle che sollecitano maggiormente e che tengono in modo particolare alla salute del proprio partner, del proprio compagno, del proprio figlio o nipote. E quindi anche voi siete protagoniste. Parliamo da un lato di una campagna di prevenzione andrologica molto importante che si è svolta a livello nazionale, che ha sortito anche dei risultati straordinari, rivolta prevalentemente ai più giovani, Androlife. E ve la racconteremo bene, capirete anche l'importanza dei fattori di prevenzione del rischio di infertilità maschile. Poi le conseguenze si pagano più avanti con il tempo, ma il tempo vola per tutti. E dall'altro invece quali sono le principali problematiche, le patologie che a volte trascurate possono provocare delle conseguenze anche gravi per l'uomo. Tanti anche le malattie sessualmente trasmissibili, quelle venere che possono essere considerate lievi o non gravi, che invece da recenti studi hanno delle controindicazioni e anche delle ripercussioni in proseguo di tempo con delle degenerazioni. Allora, noi parliamo con i nostri esperti. Abbiamo veramente il piacere di avere con noi l'illustre professor Carlo Foresta, grazie ad essere qui, che è andrologo all'Università di Padova. Ma non soltanto, perché specialisti in andrologia ed endocrinologia. Presidente dell'Associazione Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione, direttore del Centro di Crioconsergazione dei Gameti Maschili presso l'Azienda Ospedaliera dell'Università di Padova. Autore di moltissime pubblicazioni, di moltissime ricerche, anche a livello leader in Italia e poi ha tanti altri ruoli. Non vado ad elencarli tutti, professore, perché veramente ha un curriculum vita eccezionale. Grazie. E con lui abbiamo il piacere di avere un giovane medico, che tra l'altro ci aiuta proprio a capire, ad adentrarci anche nel mondo della comunicazione giovanile. Grazie di essere qui con noi, Umberto Carraro. Grazie a voi. Sempre Padova. Sempre Padova. Perfetto, benissimo. Allora, professore, ho esordito con questo progetto AndroLife, dopo ci saranno anche altri progetti che seguiranno, perché ha avuto veramente un successo. Ma che cos'è? Il progetto AndroLife nasce dalla necessità di comunicare ai giovani maschi che il sistema riproduttivo è a rischio già durante il periodo post-adolescenziale e nel periodo proprio dei 18-20 anni. Cioè prestissimo, insomma, prima di quanto si possa immaginare. Questo perché se esiste una patologia, diciamo, congenita oppure connaturata al soggetto, poiché non ci sono sintomi vistosi, il giovane non si accorge e quindi questa patologia se la trascina fino a quando diventa adulto. E ci sono patologie asintomatiche quindi? È completamente asintomatica. Scoprirla presto, questa patologia, può portare a delle soluzioni della patologia stessa e in ogni caso alla preservazione della fertilità che è presente quando la patologia viene scoperta. Ad esempio, se un giovane nasce con un danno testicolare molto importante, per cui a 18-20 anni ha pochissimi spermatozoi nel liquido seminare, questi non danno sintomi. Lui non sa di averne pochi. Ma se noi questi pochi spermatozoi li crioconserviamo, la fertilità di quel giovane che è anche compromesso nel suo potenziale di fertilità viene mantenuta. Questi pochi spermatozoi a 30 anni, a 40 anni, possono poi non esserci più. Addirittura, quindi a questo punto serve. Quindi anche questa è prevenzione. Ma soprattutto noi ci siamo soffermati sulla prevenzione di quei fattori di rischio che definiamo modificabili, che dipendono proprio dalla qualità e della modalità in cui vive il giovane. Assolutamente. E ce ne sono tanti perché ci sono fattori di rischio che possono essere evitati per comportamenti più corretti di vita, stili di vita. Ma certo, abbiamo messo in evidenza ad esempio che l'uso di psicofarmaci non è poca la frequenza con cui i giovani prendono psicofarmaci. Il 5-6% dei giovani a 18 anni assume regolarmente psicofarmaci. Di sicuro ci saranno delle patologie che necessitano di questa terapia, ma molte volte diventa un'abitudine, un ricorso al farmaco per un malessere, come dire, generale che nasce semplicemente dal nostro modo di vivere, dalla società, dalla famiglia, dall'habitat. Gli psicofarmaci sono dannosi alla fertilità, ma non solo. La vita sedentaria è dannosa alla fertilità del giovane. Quindi l'obesità l'accumulazione. L'obesità è dannoso, ma ancora l'uso di droghe, di farmaci, di sostanze dopanti. Eh, il doping anche quello. Nei nostri ambulatori non è infrequente vedere giovani che ci consultano per dei segni clinici o laboratoristici collegati proprio all'assunzione di queste sostanze. Ma ancora, le droghe, il concetto della marijuana che non fa male... Bravissimo, infatti volevo proprio dirle questo, perché i giovani dicono ma no, ma uno spinello la settimana, due, non fa niente. Io adesso non voglio entrare nella quantificazione di quanto è dannoso e per quanto tempo. Diamo un concetto generale. Il concetto che la marijuana non fa nulla va un po' rivisto, perché proprio noi a Padova abbiamo dimostrato che una delle sostanze fondamentali che è contenuta nella marijuana, per agire, ha bisogno di un recettore nell'organismo. E questo recettore, tra le tante parti dove è espresso, è espresso anche negli spermatozoi. E l'attivazione di questo recettore, da parte della sostanza contenuta nella marijuana, diventa inibente proprio la funzione fertilizzante dello spermatozoo. Quindi dobbiamo stare attenti. Se poi mettiamo insieme l'alcol, la marijuana, la vita sedentaria, lo sconvolgimento del ritmo nictemerale, che significa ritmo nictemerale. L'uomo ha bisogno, come il giorno e la notte, del periodo del riposo e del periodo della vita attiva. E non è casuale che il periodo del riposo avvenga di notte, perché tutte le influenze neurotrasmettitoriali che regolano proprio il ciclo delle 24 ore, si trasformano poi in ciclicità della produzione degli ormoni. E quando questa ciclicità viene alterata, nelle donne per esempio il segno più evidente è un'alterazione del ciclo. Nell'uomo che non ha ciclo, l'alterazione si concretizza in una inferiore o anomala produzione di spermatozoi. Queste sono conoscenze che vengono così ufficializzate di recente. Sono oggetto di studi comunque che partono da tempo dietro. E sono emersi anche dei dati in virtù di una ricerca condotta sul campo che sono eclatanti a riguardo. Noi abbiamo pubblicato molto su questi argomenti, di come l'obesità altera il sistema endocrino del giovane, di come l'uso delle droghe alteri la spermatogenesi. Ma di recente ha fatto molto scalpore anche una nostra ricerca che è stata condotta sui giovani che frequentano in modo eccessivo accanitamente le saune. Le saune? Questa mi sfugge. Cosa succede? Le saune, noi abbiamo fatto uno studio, siamo partiti dal presupposto che i testicoli e la spermatogenesi temono il calore. Questo è un dato di fatto. Tant'è vero che i testicoli sono fuori dalla cavità addominale perché sono in un ambiente che ha almeno due gradi in meno rispetto alla temperatura corporea. Tutte le cause che alterano la temperatura corporea e dei testicoli alterano la spermatogenesi. Tre giorni di febbre, per esempio, alterano la spermatogenesi. Allora noi abbiamo preso dei giovani sani, normalissimi, e abbiamo seguito le caratteristiche della spermatogenesi in questi giovani invitandoli a sottoporsi a saune di un quarto d'ora tre volte alla settimana per tre mesi. Metodicamente tre volte alla settimana. Per tre mesi. Le saune classiche che sono... Sì, sì, sì. Quello che ci sono nelle palestre, nei centri sportivi, eccetera. Abbiamo avuto un dimezzamento del numero degli spermatozoni. Addirittura dimezzamento. Un dimezzamento. Ma temporaneo, professore? Sì, appunto, questi sono giovani sani, per cui tre mesi dopo la sospensione delle saune sono ritornati alla normalità. Ma la cronicità e soprattutto se alle saune si sottopone un soggetto che ha già una spermatogenesi alterata, le conseguenze... Sì, sono di tutt'altro genere. Torniamo però al discorso di quantificazione, perché è chiaro che una sauna saltuaria o una alla settimana forse non inficia. Qui sono le tre saune, periodicamente e cronicamente, che in tre mesi già danno un'alterazione. Ma i soggetti interpellati, perché questa ricerca nasce naturalmente da studi su stili di vita, eccetera. Ci sono ragazzi giovani che hanno questo tipo di abitudine anche? Noi abbiamo dato il segnale che ha creato molta discussione, perché non pensavo che ci fosse un mondo così legato peraltro fra di loro, di coloro che sono frequentatori delle saune. C'è veramente un mondo. Infatti sono stato poi tirato dentro le discussioni di vari blog su questo argomento. È un mondo molto interessante. Noi riprenderemo questo studio, perché vogliamo capire bene che cosa è che succede quando in realtà si cambia la temperatura dei testicoli nelle saune. Assolutamente. Questo è molto interessante. Tra l'altro, io ricordo tanti anni fa, in tempi non sospetti, si parlava di coloro che aiutano alla riabilitazione nell'acqua termale e stanno immersi in acqua per ore e ore per seguire l'abilitazione fisica condotta in acqua termale. E lì erano in sorti dei problemi, proprio perché il corpo sempre immerso in un liquido caldo poteva provocare appunto delle alterazioni a livello spermatico, eccetera. Quindi in tempi, si parla di decine di anni fa addirittura, per cui qualche cosa c'era, niente di scientifico, però adesso invece c'è la comprovazione scientifica. Io lo interrompo solo un secondo, torniamo sull'argomento. Dobbiamo interromperci perché c'è il break pubblicitario. Proprio due secondi di pubblicità, abbiate pazienza, seguiteci ugualmente da casa. Noi torniamo subito, riflettete su quanto è stato detto, adesso continuiamo sull'argomento. Sentiremo anche la voce naturalmente di un giovane medico che ha toccato con mano la realtà dei giovani. A tra poco. Ecco, professor Carlo Foresta, abbiamo parlato e un attimo sottolineato un aspetto, magari non un noto a tutti, le temperature calde, per esempio le saune frequentate con molta frequenza, tre volte alla settimana, anche un quarto d'ora, però questa temperatura calda provoca un'alterazione della motilità spermatica, del numero degli spermatozoi vivi, attivi, nel maschio giovane e in piena salute. Che cos'altro è venuto fuori da queste recenti ricerche? Quali altre novità? Intanto noi abbiamo messo a punto un metodo molto semplice di misurazione continua delle temperature dei testicoli. È una specie di bottone che contiene un sistema di misurazione di temperatura che poi può essere trasportato in computer e quindi letto analizzato. Abbiamo studiato quali sono le condizioni che alterano la temperatura dei testicoli. Quindi gli abiti, per esempio. Quindi gli abiti, le varie forme di attività fisica, le varie forme di lavoro, l'obesità, per esempio, è una delle condizioni in cui la temperatura si innalza di più, ecco perché l'obesità può alterare la spermatogenesi anche per questo motivo. Abbiamo così analizzato tutte le condizioni che modificano la temperatura. Ovviamente non è che tutte queste condizioni sono poi causa di infertilità. Possono però contribuire in modo rilevante. Dipende dall'entità e dalla cronicità di questo fenomeno. Per esempio nell'obeso, dove la temperatura è calda cronicamente, è chiaro che noi abbiamo poi un'alterazione della fertilità. Cosa diversa è per esempio l'innalzamento della temperatura che si ha, per esempio, quando si fa un giro in bicicletta. Infatti stavo pensando a quello perché per i ciclisti è stata una cosa. Certo, però è chiaro che se uno sta 10 ore al giorno in bicicletta, il danno è chiaro. Ma poi dobbiamo considerare queste alterazioni nell'insieme perché un conto è un aumento di temperatura transitorio in un testicolo normale. Un conto è se questa alterazione della temperatura si associa ad altre anomalie preesistenti nel testicolo. Ecco, io volevo sapere, le proprie anomalie preesistenti, anche geneticamente acquisite, per cui parliamo di un altro fattore di rischio, sono maggiori in questo periodo, in queste generazioni di giovani oppure c'è sempre stata ma la scienza non era arrivata a un certo tipo di ricerca e di dati sensibili, valutabili? Ci sono delle evidenze chiare che il funzionamento del testicolo non soltanto nell'uomo ma in tante altre specie animali in questo terzo millennio sta subendo una involuzione documentata. Cosa significa? Significa che se noi analizziamo il potenziale spermatogenetico di un giovane di oggi con quello che oggi ha 40 anni, quindi una generazione precedente, è migliore quello del quarantenne rispetto a quello del ventenne. Pensate, questa è una cosa che può sembrare strana effettivamente. Può sembrare strana ma è così. Cioè il quarantenne ha un potenziale di fertilità che è migliore del ventenne. Cosa significa questo? Poiché sia il quarantenne che il ventenne vivono nello stesso habitat, non è tanto l'influenza attuale a modificare. Ambientale, quindi quello che si temeva insomma. Non è tanto questa ma quella che il giovane ha subito nel periodo adolescenziale o addirittura nella fase embrionale. Ah, infatti. Perché l'ambiente, l'inquinamento ambientale determina delle influenze nell'organismo perché queste sostanze di inquinamento, la più nota, la diossina, agiscono come ormoni, deboli ma ormoni. E l'attività di queste sostanze è quasi sempre o estrogenica, e quindi nemica del funzionamento del testicolo, oppure anti-androgenica, cioè si oppone all'attività dell'androgeno e quindi sempre nemica del sistema riproduttivo, soprattutto maschile. Ecco, torniamo ancora adesso sull'argomento. Prima però volevo sentire anche il nostro dottor Carraro, perché ha avuto modo, a fronte di queste ricerche, di questi dati, importanti, perché effettivamente cambiano anche certe prospettive, e poi vediamo poi tirando le somme in conclusione a che cosa si può arrivare, tra l'altro. Che impatto ha avuto sui giovani questo tipo di messaggio? E quali giovani? Quindi a che target vi siete rivolti? Come li avete trovati? Come li avete colpiti con questi messaggi? Ne abbiamo visto, intravisto prima, adesso magari possiamo mettere in onda degli spot istituzionali, nazionali, che coinvolgevano per esempio personaggi del mondo dello sport, emblematici di vario genere. Ma voi sul territorio cosa avete fatto in Veneto? Beh, sicuramente il progetto AndroLife è un progetto a carattere nazionale, che ha coinvolto oltre 20 città su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo i principali centri universitari. A Padova, l'Università di Padova, il centro di crioconservazione dei gametti maschili, diretto dal professor Foresta, è stato sicuramente il punto d'attrazione per le attività della Regione Veneto. Abbiamo effettuato attività di vario tipo, da incontri culturali con i giovani, in particolare il Teatro Verdi, è stata sede di un grosso evento di comunicazione culturale rivolta ai giovani nella giornata del 19 marzo, quindi della festa del papà. Poi c'è stata una grossa campagna di comunicazione nelle piazze, con il sostegno della Croce Rossa, ci sono stati il gazebo nelle piazze di Padova. La sera è stato organizzato un concerto in Piazza dei Signori, è stato un po' rovinato dalla pioggia, ma devo dire che comunque i giovani che hanno aderito hanno partecipato molto numerosi lo stesso. Abbiamo poi organizzato, in collaborazione con il CONI, molte attività sportive nelle scuole, quindi sono stati i trofei Andro Life, le coppe Andro Life. I ragazzi sono stati premiati al Teatro Verdi, di fronte a una platea di oltre 500 studenti delle ultime classi, delle superiori, quindi è stato veramente un bel momento per tutti e devo dire che la cosa che più ci ha soddisfatto è vedere la risposta della nostra città a questo progetto, che è stata... Quindi stiamo parlando della città di Padova, perché noi siamo ovviamente, ci vedono anche in altre regioni d'Italia, anche in Lazio, per cui Padova in particolare. Noi Padova, perché appunto dicevo che Padova è stato il centro per il Veneto, però insomma, quindi è stata la nostra esperienza più vicina, però anche in Lazio, anzi, siccome abbiamo tutti i dati, tutti i numeri del Lazio, l'iniziativa è stata fortissima, guidata dall'Università alla Sapienza e quindi è stata trainata. Ecco, ma quello che mi chiedo, i giovani, come hanno risposto? Perché sono cose un po', sono intimi, insomma, sono problemi che uno non vorrebbe affrontare per paura e dall'altro appalesare perché insomma può essere fonte di imbarazzo se hai una certa età, poi quando uno è già in coppia, eccetera, è diverso, però comunque sempre viene affrontato da parte dell'uomo con un po' ancora di difficoltà. La donna è già più disponibile, eccetera, però l'uomo non ancora. è vero, lo sappiamo bene e si vede nelle visite ambulatoriali che vengono svolte ogni giorno. È un problema che soprattutto quando si manifesta più avanti nell'età crea grosse difficoltà anche da un punto di vista psicologico e di gestione della coppia. È proprio questo il significato più profondo del progetto Andro Life. Fare in modo che non sia un qualcosa di cui ci sia da vergognarsene, ma invece i motivi per curarlo, per curare queste patologie e pensarci presto sono tantissimi perché la prevenzione è l'unico modo per arrivare poi all'età in cui i figli si desiderano veramente senza problemi reali. Perché il tempo vola. Il tempo vola. Il tempo vola, ma è un tempo che ha delle cadenze ben precise per una degenerazione che potrebbe avvenire. Ma infatti anche il significato di istituire una campagna è quello di dare accesso ai ragazzi e alle cure senza farli sentire ghettizzati, malati o che vadano dal medico perché c'è una patologia. Si va dal medico perché è giusto farsi vedere, perché c'è una campagna e perché è giusto farlo. E così le visite che sono state prenotate sono state in tutta Italia oltre 1300. Sono state prenotate oltre 1300 visite gratuite tramite un numero verde le telefonate sono state più di qualche migliaio abbiamo fatto fatica a gestirle a coprire tutti i buchi però è stato c'è stata soddisfazione è stato oltre ogni oltre ogni nostra aspettativa. Professore alla luce di questo la campagna continua si ferma coinvolgerà altre fasce di pubblico di uomini perché poi appunto si diceva il problema si scopre anche dopo e comunque anche in età giovane perché 30 anni ormai uno ancora giovane insomma 30-35 le considerazioni che noi possiamo fare da questa prima campagna sono di due tipi primo è risultato vincente il fatto di andare a comunicare ai giovani nei siti dove i giovani ci sono quindi andarli a trovare proprio a scovare nelle scuole nelle scuole nelle università nei concerti negli stadi nelle piazze siamo andati noi lì questa strategia deriva da due considerazioni la prima è che abbiamo ritenuto veramente opportuno andare noi dai giovani la seconda perché non avevamo fondi sufficienti per campagne tradizionali che vedono grandi spot televisivi grandi giornali che pubblicano pagine di campagne di questo tipo quindi abbiamo detto lavoriamo in casa facciamo lavorare tutti quanti i nostri soci noi siamo espressioni di una società scientifica e tutti hanno risposto in modo molto dinamico quindi questo è stato premiante la seconda cosa ci siamo accorti che i giovani rispondono bene e sono tanti più di quanti noi pensavamo rispondessero abbiamo triplicato le proposte ambulatoriali non sono state assolutamente sufficienti abbiamo sospeso le prenotazioni dopo tre giorni perché avevamo triplicato gli ambulatori e non sapevamo più come fare questo ci impone di continuare un altro dato che ha accennato prima il dottor Carraro è che più della metà delle telefonate sono state per così dire respinte rinviate perché fatte da persone che non rientravano nella fascia di età da noi considerata 18-30 anni quindi dobbiamo rivedere il target quindi vuol dire che c'è un interesse c'è una sensibilità in questo senso se la cosa si muove passa la diffidenza e dobbiamo fare alleanze e questa è un'altra cosa dobbiamo fare alleanze nel senso che non può essere uno specialista a farsi carico di una prevenzione e patologia così frequente come può essere quella andrologica si diceva uno su tre quindi non può essere lo specialista infatti stiamo costruendo dei tavoli di lavoro con la medicina generale ma anche i medici sportivi per esempio che sono poi mano a mano gli altri però la prima il primo filtro deve essere il medico di medicina generale perché noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo di far sottoporre a 18 anni tutti i giovani ad una visita che comprenda anche l'ispezione e la clinica del sistema riproduttivo associata ad un esame del liquido seminale se a 18 anni uno è stato visitato e ha eseguito un esame del liquido seminale ha fatto un punto preciso sulla sua situazione riproduttiva perché o è normale e quindi non ha problemi basta che si controlli una volta ogni tanto o se non è normale deve subito trovare i rimedi per preservare la sua fertilità ricorrendo allo specialista assolutamente questa è una cosa molto molto importante anche interessante perché siamo in una società diversa quindi è meglio si può intervenire appunto si parla di crioconservazione ma non soltanto ma poi si possono anche trovare delle strategie farmacologiche adesso magari vedremo anche quali possono essere le patologie che provocano delle ripercussioni quindi coinvolgiamo i target di età pochi secondi di intervallo pubblicitario ritorniamo subito insieme con voi allora professor Foresta ci sono delle patologie note che sono sessualmente trasmissibili che hanno delle conseguenze ci sono altre che sono state studiate per le quali ci sono anche dei vaccini per le donne per le ragazze in giovane età per le quali invece non sono coinvolti i maschi perché non si è mai ritenuto il caso di farlo in modo particolare che cosa facciamo un accenno prima alle patologie sessualmente trasmissibili e diamo un segnale chiaro che è quello che la prevenzione attraverso il preservativo deve essere fondamentale e non è così no perché resta alta la guardia ma sembra non se ne parla più sembra che non ci sia neanche più l'AIDS se si parla con i giovani quando noi su 2018 anni abbiamo posto il quesito avete avuto rapporti sessuali sì e abbiamo chiesto avete utilizzato delle precauzioni per le infezioni e quant'altro il 50% ha risposto no quindi quindi il 50% dei diciottenni che hanno cominciato ad avere rapporti sessuali non usa nessun tipo di prevenzione questo è un fatto grave ma secondo lei si è abbassata la guardia si è abbassata la guardia si è abbassata la guardia e non se ne parla più non se ne parla tanto e una e ci sono due grossi problemi dietro questo primo il fatto che in Italia cominciano a girare patologie sessualmente trasmesse che vengono da altri paesi che vengono da altri paesi e ormai non si vedevano più quindi questo è già un grosso pericolo il secondo pericolo è che esistono delle patologie sessualmente trasmesse che soltanto oggi noi stiamo considerando come agenti patogeni veri il papillomavirus per esempio lei sa che il papillomavirus è stato implicato come l'agente causale del tumore del collo dell'utero della donna e il vaccino è stato concepito e proposto proprio per prevenire il tumore del collo dell'utero della donna ma il papillomavirus alla donna viene trasmesso durante l'atto sessuale dall'uomo certo quindi l'uomo è sicuramente il traghettatore di questo virus ma in seconda battuta è proprio vero che questo virus poi nell'uomo non sia agente causale di patologie a lui stesso quindi no primo condilomi e verrucchie 250.000 casi all'anno sottostimati di condilomi non si muore di verrucchie non si muore però si sta male psicologicamente perché l'uomo si sente un tore e considera quasi un castigo di Dio un qualche vizio sessuale se sono venute fuori poi le verrucchie e i condilomi le coppie soffrono molto di questa patologia in secondo luogo ci sono tumori papillomavirus dipendenti anche nell'uomo non sono molto frequenti ma i tumori del pene sono papillomavirus dipendenti i tumori dell'ano i tumori del loro faringe e proprio Padova negli ultimi due anni ha scoperto ed è diventato diciamo un motivo internazionale di interesse il fatto che il papillomavirus può essere presente nel liquido seminale soprattutto degli infertili e questo virus si lega proprio agli spermatozoi quindi può essere una delle cause scatenanti di questa infertilità ma proprio di recente abbiamo pubblicato su una prestigiosa rivista americana peraltro l'Espresso dell'ultima settimana ha ripreso questa nostra pubblicazione internazionale noi abbiamo dimostrato che quando lo spermatozoo si lega al virus può trasportare il virus nell'ovocita quando feconda addirittura e attivare il dna del virus all'interno dell'ovocita stesso e di conseguenza causa di abortività infatti magari è una delle cause che però non si era mai individuata di preciso e di recente scoperta questo fenomeno questa associazione quindi io credo che non ci sia più nessun'ombra di dubbio che se si vuol fare una campagna di prevenzione per le patologie HPV dipendenti non soltanto per il tumore del collo dell'utero ma per tutte le patologie HPV dipendenti non si possa trascurare il giovane maschio si parla di vaccinazione anche per l'uomo si può ipotizzare una vaccinazione secondo lei ma certo in alcuni paesi già esiste questo tipo in Europa oppure negli Stati Uniti no è in Canada che è stata fatta forse anche in Austria a partire dalla vaccinazione per i maschi secondo lei dottor Caralovic come verrebbe recepita in Italia visto che lei ha avuto contatto con il mondo giovanile una vaccinazione stesa anche ai giovani uomini io posso certamente dire che quando si parla di questa tematica ai ragazzi e ai ragazzi giovani c'è un grosso interesse e c'è sicuramente una predisposizione d'animo all'autocontrollo al controllo e andarsi a fare le visite quindi forse dire come verrebbe presa non è facile però sono convinto che sicuramente sia un presidio utile se non necessario addirittura per l'eradicazione del virus e le patologie che effettivamente possono anche affliggere l'uomo sono comunque gravi e quindi è giusto considerare l'uomo probabilmente in questo caso al pari della donna immagino che comunque provocazioni e domande siano state fatte anche i giovani interpellati ma quando viene chiesto al giovane ritieni che possa essere pericoloso la somministrazione di droghe ne abbiamo parlato di alcuni tipi di droghe oppure certi comportamenti a rischio non utilizzare il preservativo per esempio c'è la consapevolezza del rischio del pericolo o siamo ancora in una fase di ignoranza c'è la consapevolezza del rischio ma non tocca a me non mi riguarda è il classico questa è la classica risposta nel senso che ormai il livello culturale comunque dei giovani è abbastanza elevato quindi tutti sanno della possibilità del rischio però non vengono vuoi che proprio sia io quella persona che mi sono disfortunata infatti proprio a questo proposito lo slogan del progetto Andro Life era su 3-1 ma meglio nessuno questo è uno slogan che parte da basi scientifiche nel senso che il 30% dei ragazzi porta a fattori di rischio di infertilità quindi è vero che uno su tre potrebbe essere il rischio di infertilità e nelle locandine si vedono tre ragazzi che si indicano come per dire beh ma non sono io sei tu o forse l'altro e quindi c'è questo senso di mancata forse consapevolezza che invece è un problema reale C'è molta promiscuità tra i giovani? Ma sì forse forse sì può essere in tirando le conclusioni se cambia la diciamo fisionomia delle patologie che sono correlate a comportamenti nell'uomo cambia anche l'uomo stesso in tutta la sua struttura fisica se poi addirittura certe cose vengono geneticamente trasmesse se nasce con delle diversità rispetto alla generazione precedente dove stiamo andando a finire? Quindi ci sarà una generazione futura più debole un cambiamento proprio dell'uomo in sé per sé nei suoi connotati generali Ma noi siamo già diversi rispetto a 50 anni fa i nostri giovani sono più alti di 3-4 cm rispetto a prima e questa altezza non è un'altezza fisiologica perché gli equilibri delle strutture corporee di questi giovani sono diversi rispetto a quelli di 50 anni fa hanno le braccia più lunghe hanno le gambe più lunghe e questo significa che l'impregnazione ormonale che disegna gli equilibri delle strutture corporee è diversa ma se noi ci rifacciamo a specie più basse rispetto all'uomo ci rifacciamo agli orci polari per esempio che vivono in un ambiente molto inquinato e lì i cambiamenti sono stati vistosissimi si parla di stati intersessuali bravo io volevo arrivare a questo siccome c'è quasi un'omologazione noi dobbiamo già entrare ermafroditismo quasi paradossale siamo lontanissimi dal pensare che l'uomo domani diventi ermafrodita ma non siamo lontani anzi siamo già nel presente e dobbiamo considerare che l'uomo soprattutto l'uomo è cambiato in molto per quanto riguarda il sistema riproduttivo d'altra parte le patologie del sistema riproduttivo nell'uomo oggi sono in incremento i tumori del testicolo il criptorchidismo cioè la mancata discesa del testicolo nello scroto e l'infertilità sono tre elementi che conducono tutti e tre ad un qualcosa che non funziona nel testicolo già al momento dello sviluppo embrionare questo è chiarissimo questo è il dato più evidente perfetto purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo è volato ma siamo giunti al termine grazie professor Forresta che è stato con noi grazie anche il nostro dottor Carraro grazie a voi di averci seguito quindi da tutto questo estrapoliamo un fatto importantissimo fatevi visitare una visita veramente non costa nulla sono pochi minuti ma può veramente dare delle prospettive di vita migliori qualora si volesse poi decidere di intraprendere una vita familiare con dei figli o comunque evitare poi l'insorgenza di patologie degenerative anche molto gravi grazie ad essere stati qui con noi come sempre all'appuntamento domani 12 e 40 con la nostra diretta passo la linea subito a ITG grazie a tutti grazie a tutti